Collegato invece Skype dagli studi della Lega, perché insomma come vedete non mancano i simboli del partito dietro di lui, Claudio Borghi, già Presidente della Commissione Bilancio, ben trovato. Buonasera, grazie. Allora l'idea, se siete d'accordo anche i nostri ospiti, è di attraversare il MES per varie forme. Prima di tutto cerchiamo di chiarirci una cosa, la riforma del MES e il recovery sono collegati. Fioramonti, questa logica di pacchetto, cioè in pratica il fatto che i suoi ex colleghi del Movimento 5 Stelle stiano votando a favore di una cosa a cui sono contrari, ce la può spiegare? Ho difficoltà a spiegarlo anch'io in realtà, la logica del pacchetto rischia di diventare un po' una scusa. Qui sono delle cose distinte, anche se ovviamente si parla di una visione europea in cui in futuro potrebbero essere integrate. Oggi si è fatto, io per esempio mi sono astenuto su questa risoluzione di maggioranza per una ragione molto semplice. Io ritengo che un fondo europeo che aiuti gli stati in difficoltà, chiamiamolo di solidarietà economica e sociale, sarebbe indispensabile nel nostro Paese. E noi abbiamo bisogno di cogliere l'opportunità posta dalla pandemia per riformare il MES adesso, non rinviare la riforma del MES, un MES migliore, a un futuro prossimo che potrebbe benissimo non arrivare. Quindi c'è bisogno di sfruttarla adesso questa opportunità, mentre la risoluzione di maggioranza commetteva l'errore, a mio parere, di dire intanto fermiamo questa, poi domani vediamo e caso mai, questa è la linea del Partito Democratico mi pare di aver capito, caso mai facciamo una riforma tra qualche anno, quella del 5 Stelle era addirittura un po' più ipocrita, perché diceva caso mai quando torna e lo dobbiamo ratificare non lo ratifichiamo. E quindi in qualche modo ribaltiamo la situazione tra qualche mese o tra qualche anno, quando arriverà, perché ricordo che questa riforma poi va ratificata da tutti i parlamenti nazionali. Io invece ritengo che oggi l'Italia dovrebbe fare la voce grossa e su una questione così fondamentale, e questo mi distingue dalla posizione di Borghi e dell'opposizione, su questa riforma dire no, questa riforma non ci piace, non è sufficiente, non è assolutamente basata su una solidarietà che faccia dell'Europa un'unione più integrata e meno legata alle ingerenze di mercato, o alle ingerenze di alcuni, e quindi spingiamo sull'acceleratore adesso perché vogliamo un MES completamente diverso. Oggi c'è un'opportunità, domani potrebbe non esserci. Chiaro. Marattin, vengo da lei. Intanto una domanda, se dobbiamo aspettarci sorprese da Italia Viva adesso al voto, oppure è tutto lineare? Sicuramente lei lo sa. Noi siamo quelli che prima di tutti abbiamo detto che andava bene sia la riforma del MES un anno fa, sia la linea pandemica pochi minuti dopo che è stata approvata dall'istituzione europea e se vuole dopo ripetiamo il perché. Quindi su questo sorprese possono arrivare da tutti, tranne che da noi. Ci chiarisco un'altra cosa. A suo modo di vedere il voto vostro, per esempio, favorevole sul MES e invece le questioni riguardanti il recovery sono legate, nel senso se avessimo dovuto, perché a questo punto possiamo auspicabilmente dire che arriveremo a dare al Presidente del Consiglio un mandato favorevole, ma se fossimo arrivati in Europa con un mandato contrario, quindi l'Italia che magari pone il veto sul MES, ne avremmo avuto qualche ricaduta negativa anche sul recovery? Non a livello formale, credo, poi a livello sostanziale probabilmente ci avrebbero detto ma scusate, un anno fa eravate pronti a firmare perché nonostante quello che si dice il primo governo Conte vi ha dato il via libera nel giugno 2019. Poi vi abbiamo dato un anno di tempo perché qualcuno in Italia si è inventato che in realtà questa riforma avrebbe fatto sbarcare gli alieni. Vi abbiamo dato un anno di tempo, nel frattempo abbiamo fatto il recovery fund che vi dà la parte più imponente di risorse, adesso venite pure a dirci che non ci va bene la cosa che avevate sempre detto che andava bene, quindi non formalmente ma sostanzialmente credo che le cose sarebbero state collegate. Dopodiché lo vuol sapere qual è secondo me il legame più grande fra recovery fund e MES, in questo caso sanitario, se lei guarda la bozza di piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè il penultimo step del recovery fund, c'è scritto che noi dei 120 miliardi di restiti... No, no, guardi non volevo dire questo, però aggiungo anche questo, però le dico un'altra cosa più interessante, sto cercando da ieri di farmi dare una risposta, anticipo le critiche, se sei in maggioranza perché non ti danno risposte, non me le hanno date, magari me le dà qualcuno di voi, magari proprio quelli contrari al MES sanitario. Dei 120 miliardi di prestiti del recovery fund, noi diciamo guarda, 40 li utilizziamo per fare spesa nuova, cioè per fare un nuovo deficit, 80 li utilizziamo per sostituire le spese già in bilancio, quindi per fare spese che avremmo comunque fatto, però lo facciamo per risparmiare interessi, perché noi ci finanziamo a un costo medio sotto all'1%. Quindi lei dice, se lo facciamo con quelli perché non farlo anche con il MES? Vede che mi legge nel pensiero Pignani, non solo però, siccome dei due quello che ha le condizioni è il recovery, perché il prestiti del recovery fund non solo devono essere spese nella materia che ci dice l'Europa cattiva, ma siamo controllati da un organismo che si chiama il Comitato Economico e Finanziario, che è fatto dai tecnici delle banche centrali dei Ministeri del Tesoro, altro che troica, invece il MES sanitario condizioni non ce l'ha. Quindi la domanda è, ma perché possiamo fare con dei prestiti condizionati una cosa che invece non possiamo fare con dei prestiti non condizionati? Borghi, cosa ne disse? Io ovviamente rispondo che dal mio punto di vista anche i prestiti del recovery fund non sono un regalo esattamente come quelli del MES, solo che sono funzionali alla propaganda di regime che si diverte a far vedere dei cartelloni piogge di miliardi. Quindi quelli che sono appunto a tutti gli effetti o dei prestiti e quindi come tali assolutamente analoghi a emettere BTP come facciamo adesso, anzi con un onorosità maggiore, perché ricordiamo che al momento tutti i BTP che noi emettiamo vengono in pratica comprati dalla Banca Centrale e alla fine non devono essere restituiti, perché la Banca Centrale li rinnova costantemente per ora. Poi adesso che gli abbiamo dato in mano l'arma del MES in futuro potrebbe anche essere che non lo faccia, quantomeno solo per noi. Dall'altra parte invece vanno restituiti a scadenza e andranno restituiti con che cosa? Ovvio non prelevando dei soldi secchi dal bilancio di quell'anno, presumibilmente l'anno in cui scadranno i prestiti del MES o del recovery fund bisognerà emettere più titoli di Stato, solo che adesso i tassi di interesse sono a zero. In futuro potrebbe anche essere che i tassi di interesse siano più alti, quindi io effettivamente la parte, come correttamente ha detto Marattini, cioè la parte di sostituzione del nostro finanziamento con il recovery fund piuttosto che la parte di ulteriore indebitamento non vedo l'utilità, tant'è vero che la Spagna ha detto immediatamente che lei dei prestiti del recovery fund non sa che farsene, ma probabilmente non ha un ufficio propaganda o non ha bisogno di un ufficio propaganda così pervasivo e così incredibile come quello invece di cui si munisce Conte, tale per cui è un anno che va avanti mostrando cartelli con piogge di miliardi e ovviamente di questa pioggia non arriva nulla. Marattini, Borghi, tra le altre cose, dice anche che fondamentalmente il MES è un trappolone perché si tratta di una cosa esterna che ci viene imposta. Una delle cose che volevo chiederle assolutamente era perché votare sì alla riforma del MES, nel senso perché voi siete così favorevoli e per poi dopo ritornare da Borghi e Fioramonti che hanno posizioni diverse, diciamo, ma diverse anche dalle sue. Quelli che in buona fede dubitano sul MES, in buona fede, dubitano sul MES, forse non hanno ben compreso che il MES non è il punto centrale dell'integrazione europea. Quello, grazie, purtroppo, forse l'unica cosa buona che ha fatto il Covid, ma grazie al Covid il fronte principale dell'integrazione europea, cioè fare del bilancio comunitario un posto dove si condividono i rischi fiscali, cioè dove si emette debito comune per fare spesa pubblica nei territori dell'Unione, è stato il Recovery Fund, che dovremmo tutti lottare affinché non diventi un'esperienza una tantum, ma sia la regolarità dell'integrazione europea. Quello è lo strumento per i buoni tempi, per i tempi normali. Qualcuno non capisce che il MES non è questo, cioè il MES è lo strumento per i tempi cattivi, è quello che ti viene ad aiutare... Lei in un tweet l'ha chiamato il defibrillatore. Il defibrillatore. Quando succede qualche problema, cioè quando uno Stato non riesce più a finanziarsi da solo sui mercati, interviene il MES, perché se non interviene lo Stato chiude, perché non ha più soldi in cassa per pagare i dipendenti pubblici. Questo stava succedendo in Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro. La Spagna è una cosa un po' diversa. Questo fa... Poi dopo uno, è chiaro che quando viene il dottore con la medicina sei tentato di incolparlo, ma in realtà purtroppo quello ti sta dando una medicina che nel tempo ti fa star bene, non ti sta curando la malattia, perché nella malattia purtroppo ti sei messo da solo. Questo ha fatto la Grecia quando nel 2010 è fallita. Con questa rifiuta... Intanto bisogna capire questo. Il MES non è il punto centrale dell'integrazione europea, è quella cosa che in un'unione monetaria in cui tutti hanno la stessa moneta ma continuano ad avere differenti politiche fiscali ti impedisce che uno quando sta per fallire o trascini tutti con sé oppure non abbia più soldi per pagare le pensioni. Cosa fa questa riforma? Dice guarda, intanto ti semplifico un po' le cose, perché delle due linee che ho una la rendo precauzionale, cioè se ti è stato colpito da uno shock temporaneo e non vuoi che quello shock ti innalzi permanentemente le condizioni di finanziamento, eccoti un po' di soldi. L'altra invece è la linea più dura, che oh, sei messo proprio male, eccoti i soldi, ma cerchiamo di evitare fra tre anni di essere nello stesso posto. E soprattutto fa una cosa per me cruciale, cioè lo strumento per i tempi cattivi non è più solo per il caso fiscale, ma è anche per il caso bancario. Cioè se una grossa banca sistemica, tedesca, italiana, spagnola, francese, quello che vuoi, va nei guai, adesso ha due reti di protezione. Uno è il Beilin, che non è una gran rete di protezione perché ci mettono i soldi gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati. L'altro è il fondo di risoluzione unico che è finanziato dalle banche private dell'Eurozona. Entrambi non sono così tanto capienti se va nei guai un grosso istituto bancario. Quindi il MES dice eccomi, sono io la terza rete di protezione e questo è uno strumento di condivisione dei rischi bancari. Questo è il motivo per cui ho votato convintamente sì alla riforma. Ma il punto cruciale è capire che chi vuole scommettere sui passi avanti dell'integrazione europea non deve guardare al MES. Quello è lo strumento quando ci sono dei problemi. Allora, ci stiamo per collegare con Marco Di Fonzo, a cui dopo chiederemo quali sono le novità sperando non ce ne sia nel senso che questo discorso poi di Conte non ne porti. Però prima volevo chiudere il giro. Borghi, lei fa parte di quei partiti che votano no alla riforma del MES ed è contrario anche alla linea pandemica. Quindi diciamo una coerenza che fa anche piacere per certi versi. Non ha mai cambiato di idea da questo punto di vista. Ci spiega i motivi di questo no? Beh, è molto semplice. Ha ragione Marattino. Vale a dire il MES è per tempi cattivi. Bisogna vedere se li causa questi tempi cattivi o se li cura questi tempi cattivi. Perché abbiamo visto adesso, grazie alla pandemia, che quello che dicevo io che veniva sempre additato come eresia o così di questo tipo vale a dire che quando ci sono i tempi cattivi e la banca centrale che deve intervenire era vero. Abbiamo visto che lo spread non ero io a farlo spostare ma pur con una pandemia di questo tipo è bastato che la banca centrale intervenisse e lo spread è svanito. Quindi tante balle che sono sempre state circolate sul fatto che fosse Borghi, che fossero i sovranisti, che fosse il cattivo tempo a far alzare lo spread e così via si sono dissolte con un intervento. Stubo per il pubblico che non è nel senso c'è stato un periodo in cui ogni volta che Borghi o qualcuno con idee come le sue poteva anche solo paventare o anche avvicinare l'idea che l'Italia potesse uscire dall'euro questo secondo alcuni poteva provocare un aumento dello spread. Cosa fra l'altro non così incredibile. Prego. Bastava molto meno, bastava che mi avvicinasse un microfono perché qualcuno gridasse che partiva lo spread. Invece, guarda caso, e oltretutto non sono mai stato al governo, quindi immaginate un po' Era presidente di commissione. L'aberrazione. Ah vabbè. Quindi pensa se stavi al governo che succedeva. Voglio vedere se uno adesso sa chi c'è al posto mio. Non so se ha sentito Maratin dice pensa se lei fosse stato al governo. Sì, ma appunto, è un problema democratico quindi questo, no? Capite? Invece, guarda caso, no? Se interviene la banca centrale questo non avviene. Ora, il fatto di creare il MES andrebbe spiegato alla gente in modo molto Prego. Oggi vogliamo proprio fare chiarezza. Dovete spiegare bene le cose. Allora, si dice buongiorno, tu vuoi entrare nell'unione monetaria sappi che per riequilibrare eventuali shock ci siamo già all'interno di un'unione monetaria se per caso sei solo tu che ha qualche piccolo problema non arriverà la banca centrale europea a salvarti perché la banca centrale arriva nel caso ci sia la Francia che ha qualche problema come è successo adesso e l'abbiamo visto plasticamente inizialmente la signora Lagarde ha detto noi non siamo qui per chiudere gli spread poi quando ha visto che anche la Francia cominciava a avere qualche problemuzzo l'hanno chiamata e gli hanno detto guarda che forse tu sei lì proprio per chiudere gli spread e infatti così è avvenuto ma qualora invece di essere in buona compagnia con la Francia fossimo solo noi allora ci diranno sapete cosa c'è di nuovo? Tu Italia adesso tu puoi avere lo spread anche a 800 ma a me non interessa la banca centrale non muoverà un dito per salvarti c'è il MES a quel punto cosa succede? succede che il problema lo Stato che ha un problema che potrebbe anche essere autoindotto perché basta che qualcuno all'interno del MES dica ma il debito dell'Italia non è che sia molto sostenibile ed ecco che la gente che ha in mano non penso che al MES attenzione però scusate il problema della sostenibilità del debito italiano se lo stanno ponendo in tanti e ci sono autorevoli commentatori che così lo descrivono allora cosa succederà? succederà che a un certo punto c'è un problema sui mercati benissimo non interviene più la banca centrale vi dicono andate dal MES e dopo che tu sei andato dal MES arriva la troica perché tu prendi sia prestiti i soldi dal MES per poter respirare quindi questo bel defibrillatore ma non arriva mica gratis arriva in cambio del memorandum of understanding e delle riforme e le riforme cosa saranno? via le pensioni tassa alle case tutto quello che abbiamo già visto in Grecia per cui basta che uno lo sappia nel caso anche dovesse avvenire solo se arrivi ad essere alla frutta all'interno di questo bellissimo ambiente che è l'Unione Europea se vuoi starci stanno delineando delle regole che sono così fatte poi uno decilese se gli piace o no allora mi pare che su una cosa del genere si sia discusso a sufficienza cioè così è un pensiero che voglio condividere con Fioramonti e Marattina cioè passiamo ore magari su emendamenti che di pochi spiccioli no mi pare che una riforma del genere sia stata adeguatamente coinvolta in Parlamento Fioramonti poi vedete voi Fioramonti a cui chiedi intanto passo alla domanda di Borghi e poi a cui chiedo diciamo cosa ne pensa dei due modi di affrontare il messa che abbiamo appena ascoltato cioè quello di Marattina e quello di Borghi che sono diametralmente opposti e sono due economisti entrambi allora la risposta alla prima Claudio Borghi no non abbiamo discusso abbastanza anzi purtroppo questo credo essere ormai un segno distintivo di questo governo sono d'accordo sono convinto che anche Marattin quando diceva ho chiesto una cosa non me l'hanno detto e quindi il governo purtroppo non dialoga a sufficienza si perde in tante altre questioni ma sulle questioni di sostanza non si apre ad un dibattito in molti casi io credo che questo governo non capisca neanche le conseguenze che certe scelte potrebbero portare credo che Navighi a vista su molte questioni questo a me dispiace allora da un lato c'è la posizione della Lega sospetto nei confronti dell'Europa non ci piacciono un sacco di cose il MES è una pessima reputazione non lo vogliamo ma non vogliamo neanche tante altre cose dall'altro c'è la posizione di Italia Viva ultraliberista per cui ogni cosa funziona se viene dall'Europa va bene così e poi c'è e poi c'è una posizione invece che è quella mia ma quella spessa anche da altri parlamentari oggi a non votare una cosa che non avete detto oggi a non votare o ad astenersi sono state oltre 15 parlamentari 15 deputati ok molti di questi deputati cosa dicevano noi abbiamo una grande opportunità qua davanti la pandemia che ha distrutto le nostre economie almeno può lasciare un segno positivo questo è accelerare su delle riforme che portino l'Europa ad essere qualcosa di diverso rispetto al passato non più un'unione di mercati ma un'unione di popoli di persone basata su altri principi questa cosa del MES rischia di essere un'opportunità una gigantesca opportunità mancata perché questa riforma presentata che verrà ratificata nei prossimi giorni dal Consiglio europeo e poi dovrà essere ratificata dai parlamenti è nulla rispetto a quello che ci si aspettava lei dice non questo MES un super MES è fatto in modo molto diverso dipende dai punti di vista ma è nulla rispetto a quello che si poteva e si doveva fare noi dovevamo avere un fondo monetario europeo come quello che dopo il 47 si è immaginato a livello globale che fosse davvero un fondo di solidarietà perché il governo Costa portoghese il governo Sanchez spagnolo non vogliono prendere il MES non vogliono neanche la parte di prestiti del recovery fund perché l'hanno visti gli effetti di quella stagione lì sulle loro economie ed oggi capiscono che i rischi sono molto più significativi dei benefici quando in realtà le risorse ci sono e si potrebbero creare delle prospettive diverse ora mi leggo a quanto diceva Difonso Ungheria e Polonia lungi da me difendere questi paesi perché sono davvero esecrabili nel modo in cui propongono degli interessi nazionali però viva Dio loro lo fanno cercano di accentuare le distinzioni per porre dei temi in agenda che sono nel loro interesse noi potremmo come governo italiano visto che per un anno abbiamo in qualche modo tenuto l'Europa sui carboni ardenti noi potremmo oggi diventare i paladini di un'Europa sociale che dice basta con l'Europa dei mercati l'Europa liberista del passato il MES lo vogliamo completamente diverso rispetto a questa minestra riscaldata che avete prodotto perché se non si sfrutta questa opportunità la prossima si arriverà arriverà tra dieci anni e quel Partito Democratico sbaglia in quella risoluzione dice lo facciamo al prossimo giro ragazzi un prossimo giro non ci sarà queste cose durano anni prima di essere realizzate Marattin che vuole che le dica Bignami il Portogallo ha visto gli effetti ma voi lo vedete le performance economiche che ha fatto il Portogallo dopo essere guarito dal problema che aveva ha visto l'Irlanda quello che ha fatto ma guardi per farvi cosa ne arrivo a dire la Grecia è uscita dal programma d'aggiustamento nell'agosto del 2018 non solo cresce più dell'Italia ma si finanzia su certe scadenze a tassi più bassi dell'Italia certo è stata una durissima attraversata nel deserto che hanno fatto ma questo succede quando sfasci la tua economia la Grecia vi ricordate cos'era prima del 2010 oltre ad aver truccato i conti quando tu sfasci così non è che arriva una bacchetta magica e dici va bene via tutto a posto torniamo come prima questo è quello che non sembrano capire i miei interlocutori e l'altra cosa che non sembrano capire è che non esiste nessun'area monetaria al mondo in cui uno dei membri è libero di fare tutto quello che cavolo gli pare negli Stati Uniti che hanno un bilancio unico è una moneta unica c'è il vincolo di pareggio di bilancio negli Stati ma non il pareggio di bilancio nostro aggiustato per il ciclo il pareggio di bilancio incassi 100 spendi 100 e se fallisci sono tutti affari tuoi in Europa i miei interlocutori uno in un modo uno in un altro sembrano voler dire ma sapete cosa c'è ma a me non me ne frega nulla se io ho la stessa moneta degli altri io devo poter fare tutto il deficit che voglio e se alla fine non creo abbastanza ricchezza per ripagare quel deficit drin chiamo la banca centrale la banca centrale stampa e mi aiuta uno la chiama solidarietà Fioramonti l'altro la chiama normalità Borghi voi state descrivendo babbo natale non state descrivendo un'economia moderna che non esiste in nessuna parte del mondo anzi mi correggo esiste di casi in cui la gente quando c'aveva un problema chiamava la banca centrale e gli stampava moneta da cent'anni a questa parte ce ne sono state a bizzeffe l'ultimo il primo fu la repubblica di Weimar in Germania l'ultimo è il Venezuela questo è quello che succede quando secondo voi uno stato deve fare tutto quello che gli pare poi ops non c'ho più soldi per restituire il debito ma che problema c'è arriva la banca centrale ti stampa quello che vuoi e vissero tutti felici e contenti ma quando è che l'ha finita di raccontare questa storiella agli italiani? ma non è questa non è assolutamente questa no no e no posso andare io non ho capito scusa poi dopo diamo la parola a Borghi no non è questo tanto per cominciare e qui prendo forse le difese non richieste di Borghi e i suoi colleghi e qui molti si quello che sostengono era di potersi continuare a finanziare sui mercati come fanno tutti i paesi normali poterlo fare e poterlo fare quando i tassi sono così bassi poterlo fare senza dover andare poi a sottostare a nessun'altra questione invece io dico in Europa abbiamo il più grande mercato Maratin mi fai se nessuno te li presta come fai? Maratin non siete nemmeno nello stesso studio quindi è complicato nessuno sta parlando di un paese che non riesce a finanziarsi sui mercati Costa e Sanchez ti dicono finché ci finanziamo sui mercati lo facciamo alle nostre condizioni il MES questo è un estrema razio lo vedremo dopo anche il recovery plan è un estrema razio per loro questi sono paesi che fino a qualche anno fa erano in grandissime difficoltà e oggi grazie a governi progressisti che hanno soprattutto il Portogallo preso una direzione molto diversa purtroppo dalle direzioni del nostro governo che esita moltissimo su tante questioni oggi si ritrovano in una condizione di forza e poi hanno capito dagli errori del passato uno dei tanti è stato anche quello di sottostare in maniera cieca a delle richieste che oggi dal Fondo Monetario alla Banca Centrale all'ex ministro dell'economia tedesca dicono abbiamo sbagliato su tutte queste questioni quindi se abbiamo sbagliato impariamo non stiamo parlando di Babbo Natale stiamo dicendo l'Europa ha delle risorse incredibili per risollevare l'economia europea ma è possibile che non si sia imparato nulla dal passato e non si riesca a utilizzare con delle logiche diverse a cominciare dai principi e dai parametri con cui tu dici vuoi dare i soldi nessuno dice che i soldi non devono essere legati ad alcun tipo di parametro ma è possibile che questi parametri siano praticamente gli stessi 30 anni fa possiamo però almeno dirci che gli errori dell'austerity passata non sembra che siano replicati alla solidarietà questo è il problema non i parametri ma il fatto che i parametri siano vecchi Borghi allora è molto interessante fare queste discussioni che facciamo da sette anni ma evidentemente la gente non capiva il punto della questione ma anche in questo caso ma dice bene Marattin ma che bello gli stati americani che hanno il pareggio di bilancio certo però peccato che gli stati americani abbiano un bilancio federale e dei trasferimenti interni dove i titoli di stato americani hanno rischio zero perché c'è una banca centrale che stampa tutto quello che vuole senza bisogno di diventare il Venezuela perché una cosa sono gli Stati Uniti e una cosa il Venezuela così come una cosa l'Italia c'è una politica anche da parte della Fed non è l'inflazione al 2% come da noi loro occupano di disoccupazione così almeno ricordavo prego attenzione l'inflazione è ovviamente il limite di queste politiche al momento non mi pare che ci sia all'orizzonte da parte di nessuno comunque il punto è volete che l'Europa diventi gli Stati Uniti d'Europa quindi con un bilancio federale e trasferimenti interni cioè vale a dire con a questo punto che lo Stato italiano diventi una regione senza avere il suo tesoro senza avere ma basta dirlo e soprattutto basta dirlo anche ai tedeschi cioè viva a voi regioni ricche tedesche di pagare i trasferimenti per la Sicilia per pagare i trasferimenti per le regioni povere dell'Italia dell'Andalusia o cose di questo tipo io penso che ti diranno di no io penso io direi di no perché abbiamo visto che i trasferimenti non risolvono problemi il recovery paga un tasso unico per tutti in qualche modo il recovery è una micro tentativo in questa direzione ma ovviamente è un micro tentativo in questa direzione che serve giusto a tenere assieme la baracca ma sappiamo benissimo che i trasferimenti che sarebbero necessari per tenere assieme un'area valutaria che è del tutto non ottimale perché quanto ci vuole per far diventare la Grecia come la RUR piuttosto che per far diventare la Campania come la Baviera ci sono grosse differenze anche negli Stati Uniti posto sì ci sono dei trasferimenti molto importanti dagli Stati ricchi agli Stati poveri dato che in Europa non succederà mai che ci saranno dei trasferimenti di questa dimensione dagli Stati tedeschi sentiamo un attimo stiamo trovando una convergenza Borghi sentiamo un attimo invece quindi non è stato possibile stiamo trovando forse una via per una convergenza fra me e Borghi infatti comincio ad avvertire qualche problema anche fisico perché cioè adesso Claudio non trasformarti e diventare quello che sei stato negli ultimi dieci anni fermati in quello che hai detto perché è interessante cioè la via l'area monetaria ottimale ti avverto non è la definizione non è tutti uguali Mandel 1961 American Economic Review è un'altra cosa però fermati là cioè l'obiettivo di avere un'area in cui aumentano i trasferimenti all'interno dell'Unione è un ottimo obiettivo e io concordo con te che adesso se tu vai dalla Germania a dire sai cos'è parte delle tue tasse devono essere mandate in Sicilia tu non puoi decidere né come né quando né perché non c'è un'autorità politica che gestisce questo budget tu zitto e paga la Germania ti dà un paio di ceffoni che ti gira la faccia ma lo stesso faremmo noi se ci chiedessero senti vuoi pagare un po' i tasse per la Grecia o per la Spagna quindi questo è il problema siamo d'accordo che dobbiamo arrivare a una situazione in cui questo sia politicamente possibile lo sai cosa metto io sul piatto per arrivare lì uno un institutional building europeo cioè creiamo le istituzioni democraticamente legittimate che possano fare questo grande tema secondo non può essere zitto e paga cioè i stati o le future regioni di uno stato federale devono essere fiscalmente responsabili non possono dire quello che tu stavi dicendo prima o io spendo quello che voglio tanto se c'è un problema c'è la banca centrale quindi ammesso e non concesso che tu stessi fossi in te mentre mi stavi dicendo che dobbiamo arrivare a un'unione monetaria con dei trasferimenti inter paese più solidi la strada per arrivarci è il contrario di quello che tu dicevi prima cioè ognuno fa quello che vuole ce la farò a non dire la parola e alla fine la banca centrale stampa moneta quindi lavoriamo su quello che stavi dicendo prima magari riusciamo a lavorare insieme se riesco a sopportare il concetto allora Marattin Borghi prego una chiusura poi se ce la faccio volevo fare una battuta sulle piramidi da Marattin però oggi è una giornata prego prego Borghi ah no no dico io figurati lavoro sempre con tutti però mi è parso d'aver detto che secondo me i trasferimenti non funzionano si vuol cercare di tenere assieme questo orrido accrocchio che secondo me non funzionerà e prima o poi si disgregherà beh allora una cosa che uno potrebbe fare è non spendo a cavolo ma molto banalmente cose tipo finché io ho un tasso di disoccupazione che è particolarmente alto rispetto a un altro spendo se invece tu ti trovi a piena occupazione stai crescendo del 4% tassi anche in questo caso con la parla la Germania tutti gli stati dovrebbero avere una legislazione del lavoro e un sistema molto diciamo più uniforme perché altrimenti uno può mantenere la disoccupazione ciao Ricu intanto però ringrazio chi ha partecipato a questo programma quindi Luigi Marattin Claudio Borghi e Lorenzo Fioramonti